Qual è il seminario estivo di Simbola? Ed è vero per una parte della popolazione ma questi aspetti poi crescono nel momento in cui si osserva che conviene adottare un certo tipo di comportamento e quindi un sano pragmatismo che favorisca la crescita e l'affermazione di modelli di consumo molto diversi rispetto a quelli del passato.